Ci arriva con la prima sconfitta della gestione Colavitto, l'Ancona al derby di sabato con la sorpresa Re Canatese. Una squadra, quella dorica, che effetto del nuovo allenatore a parte rispetto al roster allestito quest'estate ora ha probabilmente bisogno di qualche rinforzo per puntellare i reparti. Gli anconetani ne sono convinti in vista della sfida in programma sabato alle 18.30 al Del Conero e del mercato invernale che invece comincerà il 2 gennaio. Si avvicina il derby, l'Ancona ha bisogno di rinforzi per il futuro, intanto adesso però c'è Re Canatese. Sì, speriamo bene, la Re Canatese sta dimostrando di essere una buonissima squadra, si è mossa in maniera molto intelligente sul mercato e tifo anche la Re Canatese, però in questo caso spero nell'Ancona, che con Colavitto ha trovato un po' di osan, osa un po' di più adesso, propone. Colavitto può essere l'uomo della svolta? Colavitto tecnicamente ha cambiato il modulo, il modulo di Donatello che non andava, con quel 3-5-2 la squadra era poco appropriata e quindi classico 3-3 e 3-4-3 o 4-3-3 come lo vuole mettere Colavitto. I risultati sono arrivati, adesso anche la prima sconfitta della sua gestione, servono rinforzi? Beh, penso che servono rinforzi, un centrocampista che comunque fa il cervello della squadra e soprattutto un'altra punta se si infortuna a Spagnoli. Se non si sveglia rischia di fare i play-out. È in difficoltà però con Colavitto? Speriamo, dato che l'anatore vale e quindi speriamo che possa riprendersi. C'è il mercato di gennaio? Ecco, ci vorrebbe qualcosina in mezzo lì che l'aiuti un po' perché Ancona merita di stare un po' più in alto. È difficile, è molto difficile. Che cosa pensa? Sì, sì, devono trovare la soluzione o calciatori, adesso a gennaio se c'è calciatori nuovi oppure se lasciano così. Che serve? Non va bene, non va bene sicuro. Che serve in particolare? Attaccante sicuro, perché qua mi pare che segnano poco. Colavitto l'allenatore però ha cambiato marcia. Sì, però bisogna vedere. Grazie.